Il Comitato Resistenza e Costituzione a Iace Torino e Sacher Distribuzione di Nanni Moretti hanno presentato in anteprima al pubblico torinese il 1 marzo al cinema romano Cesare deve morire, il nuovo film di Paolo e Vittorio Taviani, che ha recentemente vinto l'Orso d'Oro come miglior film al 62esimo Festival di Berlino. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS